Io lotto per il mio futuro. Io lotto per la sanità in Calabria. Io lotto per il mio figlio e per tutte le future generazioni, che abbiano tutti una possibilità di credere in ciò che fanno. Io lotto perché le aziende di Stato non creino finanza, ma creino lavoro. Io lotto per un paese migliore. Io lotto per un servizio sociale che sia messo in grado di poter costruire per queste persone che cercano un futuro dei progetti reali di inclusione sociale. Io lotto contro i pregiudizi religiosi. Io lotto per più lavoro. Io lotto per un'Italia più giusta, più meritocratica e per il futuro di tutti.